rapunzel si sveglia all'alba oh buongiorno ho fatto un sogno bellissimo stavo camminando lungo la navata con un vestito stupendo con l'uomo più bello del mondo la principessa decide di scriverlo nel suo diario e vi aggiunge dei disegni non vedo l'ora di crescere gli anni sono passati e i sogni della bambina sono diventati realtà realizza una bellissima gonna con raso bianco e inserti viola stringi la cintura che bellissima gonna inizia a lavorare sul corsetto la gomma piuma mantiene perfettamente la forma giusta queste decorazioni sono meravigliose aggiungi le maniche a sbuffo e rifinisci i bordi alla scollatura i tacchi suonano come campane la sposa è stupenda guardati sei bellissima non sei d'accordo wow perfetto credo che ci siamo dimenticate qualcosa giusto il velo delinea un cerchietto sulla gomma piuma si adatta perfettamente a rapunzel oh questo splendore farà impazzire il principe arriccia il tulle bianco in questo modo attaccalo al cerchietto sembrano petali di fiori ehi buongiorno dormigliona alzati ti stanno aspettando tutti cosa dove sono oddio il mio matrimonio è vero ho dormito troppo questo vestito mi sta perfettamente sei così bella hai provato le scarpe la madrina di cenerentola ci ha regalato questo paio grazie non dimenticare il velo è la ciliegina sulla torta cosa ne pensi sei la ragazza più carina di tutto il regno non riesco a staccarti gli occhi di dosso la nonna si è messa a piangere dopo aver visto sua nipote che dolce la mia bambina è cresciuta taglia una base di cartone glitterato c'è un sole dorato che splende dietro di loro è molto più bello ricevere gli inviti di nozze in delle mini buste come queste sigillale con un cuore rapunzel sta scrivendo gli inviti rafael aiutami a consegnare le buste certo ci proverò ecco la casa della prima amica metti una busta nella cassetta della posta ed è fatta la posta è un po tardi oh cos'è wow il matrimonio di rapunzel certo ci andrò forse il postino ha commesso un errore o forse la principessa stessa ha deciso di invitare madre gottel qualcuno sta entrando in casa mia signora c'è posta no no amici vai via ma prenda comunque questa lettera è scappato così in fretta vediamo la mia bambina si sposa non lo permetterò non va bene per lei madre gottel ha intenzione di rovinare il matrimonio di rapunzel non appena gottel ha scoperto del matrimonio di rapunzel ha iniziato a elaborare un piano malvagio come faccio a rovinare il suo look come era quella pozione serve il dosaggio giusto un paio di incantesimi la pagherà la pozione magica è pronta dobbiamo solo metterla in un salone di bellezza ecco non se ne accorto nessuno rapunzel va a farsi acconciare i capelli per il suo matrimonio sono così nervosa tesoro lo sai sono una professionista oh no selena ha preso lo shampoo magico non appena lo mette sui capelli cambiano colore non capisco come sia successo oh no il matrimonio è rovinato una bottiglia di vetro più la melma è uguale a qualcosa di spaventoso ma i glitter hanno risolto la situazione e ora questa miscela è diventata carina decora la bottiglia con un'etichetta e un logo uno shampoo speciale farà brillare ancora di più i suoi capelli che bella confezione dentro c'è uno shampoo miracoloso aspetta ho qualcosa per te va a prendere una bottiglietta una pozione curativa le ha sistemati i capelli sì il matrimonio è salvo il principe va nell'atelier di selena mi aiuti certo per prima cosa prendiamo le misure per i pantaloni la designer si è messa subito al lavoro e ora i pantaloni sono pronti mi piacciono ora facciamo una camicia e un gilet di gomma piuma perfetto aggiungi le maniche di raso aspetta ci serve il nastro d'oro fantastico ed ecco le spalline una fascia luminosa completa è il look sembri un principe delle favole grazie vado a guardarmi allo specchio sta bene sì lo sposo è davvero carino ogni principe ha bisogno di un cavallo bianco avremo bisogno di questo foglio di gomma piuma olografica per la sella wow sembra magica completa l'imbracatura con un nastro e delle mezze perline fai la parte anteriore allo stesso modo crea una coroncina di fiori affascinante flina arriva a cavallo sono entrambi fantastici mentre il principe avvia l'uccellino nota la corona di fiori il suo cinguettio attira l'attenzione del secondo cavallo questa corona di fiori le piace proprio il cavallo gentiluomo la regala alla sua nuova amica in segno di apprezzamento wow si piacciono crea un elegante cuscino per gli anelli aggiungi nastri dorati ai lati ci servono le paillettes tutto deve essere perfetto la sorella minore del principe porterà gli anelli il prete sta già aspettando gli sposini la cerimonia sta per iniziare la bella coppia sta camminando lungo la navata il prete sta leggendo il discorso tu rapunzel e tu flin vi promettete di amarvi nella felicità e nella tristezza nella malattia e nella salute la coppia finalmente pronuncia i voti la bambina porta gli anelli congratulazioni oh che momento romantico si sono scambiati gli anelli beh se nessuno si oppone a questa unione ora vi dichiaro marito e moglie sì congratulazioni è ora che la sposa lanci il bouquet dai stiamo aspettando vorrei che ognuna di voi trovasse il suo vero amore le amiche sono super eccitate e rapunzel chiude gli occhi e lancia il bouquet ma perché non esultano chi l'ha preso cosa l'ha preso il cavallo wow ottimo lavoro contorna dei tappi di diverse dimensioni sulla gomma più malilla coprili da tutti i lati decora la torta con onde e palline oggi sposi è scritto su uno degli strati la torta nuziale è perfetta ci sono delle piccole statuine in cima sembrano proprio gli sposi la festa sta andando alla grande gli sposi sono super innamorati la nonna è felice per sua nipote tutti ballano e si anche il gatto ha trovato qualcuno con cui giocare ma all'improvviso la musica si ferma attenzione a tutti ora taglieremo la torta tutti si fermano e aspettano ops mentre il principe è distratto il cavallo spinge la torta flin attento tienile in equilibrio il principe prende la torta appena in tempo il matrimonio è salvo possiamo andare avanti disegna una gondola sul cartone deve essere abbastanza stabile da contenere gli sposini unisci i lati installa i sedili all'interno dipingi la barca in modo che sembri legno c'è una pagaia di cartone su un bastone di legno funziona proprio bene non è che può remare il principe sì che bella sorpresa rapunzel e flin vanno in luna di miele a venezia rapunzel balliamo la coppia inizia a ballare ti ho preparato una sorpresa non sbirciare le lega una benda intorno agli occhi e se ne va wow flin è tornato con una gondola togli la fascia tesoro che bella sorpresa la principessa gli dà la mano e partono per la luna di miele siamo la coppia più felice del mondo senza dubbio auguriamo agli sposini una vita piena di felicità